Sale ancora il numero dei positivi in Abruzzo. Gli ultimi dati comunicati dal Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione parlano di 813 casi che hanno contratto il Covid-19, casi diagnosticati dai test eseguiti nel Laboratorio di Riferimento Regionale di Pescara, anche attraverso l'Istituto Zooprofilattico di Teramo. Rispetto a ieri, dunque, si registra un aumento di 124 nuovi casi. Partendo dal dato complessivo, 248 pazienti sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 29 in provincia dell'Aquila, 41 in provincia di Chieti, 141 in provincia di Pescara e 37 in provincia di Teramo. 59 sono in terapia intensiva, 9 in provincia dell'Aquila, 12 in provincia di Chieti, 32 in provincia di Pescara e 6 in provincia di Teramo. Mentre gli altri 431 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 52 pazienti deceduti. I nuovi decessi riguardano un 73enne di Atessa, un 69enne di Ortona, un 79enne di Castiglione Messerraimondo, una 81enne di Collarmele, un 79enne e un 85enne di Montesilvano. Spetterà, in ogni caso, all'Istituto Superiore di Sanità attribuire le morti al coronavirus, in quanto si tratta di persone già affette da patologie pregresse. 16 pazienti sono clinicamente guariti, che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventati asintomatici e 7 i guariti, che hanno cioè risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 4.982 test, di cui 2.741 sono risultati negativi. Del totale dei casi positivi, 60 si riferiscono alla ASL Avezzano sul Monal'Aquila, 146 alla ASL Lanciano-Vastocchietti, 412 alla ASL di Pescara e 195 alla ASL di Teramo. Dei 124 casi positivi al Covid-19 registrati oggi, 13 fanno riferimento alla ASL Avezzano sul Monal'Aquila, 13 alla ASL Lanciano-Vastocchietti, 43 alla ASL di Pescara e 55 alla ASL di Teramo. Questi numeri tuttavia riguardano la presa in carico dei pazienti e non coincide necessariamente con la loro residenza anagrafica, in quanto ci sono pazienti residenti in una provincia che sono in cura in una diversa ASL provinciale. Inoltre, per ragioni cliniche, ci sono dei pazienti che sono stati trasferiti da un ospedale all'altro anche in presidi ASL differenti.